Continuano ad aumentare le sfaccate ad Alessandria e anche nel fine settimana qualcuno ha cercato di colpire un nuovo esercizio commerciale in centro. In via Dante infatti i proprietari della parafarmacia Farma Benessere si sono ritrovati con una vetrina spaccata in via San Dalmazzo. In base alle ricostruzioni di titolari i malviventi avrebbero tentato prima di aprire una vetrina finestra senza riuscirci per poi provare a infrangere il vetro di una seconda. I ladri non sono comunque riusciti a entrare nel locale. L'accaduto è stato denunciato alla polizia che potrà avvalersi delle immagini delle telecamere della zona.